vai ecco stiamo riprendendo mio padre di accimita sopra la moto stiamo andando a comprare un altro cellulare vediamo che non ce lo roppano pure questo che sta passando firma stiamo andando in un negozio di orologi a far mettere il centurino aggiustare computer facciamo un altro gas che sarebbe bicicletta adesso l'orologio e poi la tinta ah questo non si ferma ma meno male pensavo che si fermava invece che era questo? ah questo le fa bene il direttore ma cosa si ferma? che è alto? quello è meglio quello mio e poi è bello che non si ferma come fa a fermare? non è che dice test stop proprio ciao Michele ciao Michele ciao Michele 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 San Gese siamo in motocicletta ragazzi ma se passate da qua è girato perché è chiuso è chiuso? andiamo a casa? andiamo a cambiare sta cinta per il suo ruolo e gli vai tra l'amico tuo? lo signorelli sta guardando il giro in diretta guarda quello del bastone è un po' dietro e poi passiamo e com'è che qui dici su ambo i lati c'è stato che a te ma io non capisco tutti questi cartelli con piano simbita ohhhhhh tutti questi cartelli ambo i lati ma hanno avanti da uno Grazie a tutti.